benvenuti ragazzi in questo nuovo video adesso siamo in due e facciamolo svuota spesa eurospin eurospin md e tigota ok ragazzi iniziamo abbiamo preso ingienizzanti super igieniche per il bagno due confezioni salviette salviette poi abbiamo preso cibo per gatti sterilizzati al pollo e marito tre confezioni a 99 centesimi poi abbiamo preso tre confezioni di sacchetti di spazzatura quindi la spazzatura va fuori tre confezioni poi abbiamo preso due confezioni di pesto una senza aglio no anzi due senza aglio poi abbiamo preso pollo burger su gelati buoni da mangiare e buoni da gustare tre confezioni di fish burger di marluso 99 cento di euro all'emd questa è tutta la spazio dall'emd poi abbiamo preso il cervello umano me lo venga a far vedere il cervello umano pagato 3 euro e 82 centesimi poi abbiamo preso le fettine senza lattosio e fettine di formaggio poi abbiamo preso cuore di tacchino che sembrano delle palle poi una boccia di cetriolini all'aceto di vino bianco poi una confezione di mix yogurt ai cereali e sono uno due tre confezioni è una confezione di bianco con anelli al cioccolato poi abbiamo preso tre confezioni di pastina all'uovo perché questa è una mezzanotte a mezzanotte mangio la pastina perché è molto buona tre confezioni poi abbiamo preso delle salsicce lunganeghe lunganeghe non so cos'è comunque eccolo qua perché c'è quella cosa lì ah no tanto ci sta lo stesso poi sono tutto buono allora due confezioni di postate di bovino poi poi tre confezioni di carne alla fiorentina come piace a qualcuno la fiorentina è buona è buona è buona costata osso di bovino adulto tre confezioni poi abbiamo preso una confezione di panini per lo dog che mangerò solo io vero perché a te non piace lo do per lo dog poi due confezioni di pancetta affumicata e pancetta dolce poi abbiamo preso quattro confezioni di petto di tacchino al forno poi abbiamo preso tre confezioni di prosciutto cotto scelto uno due tre a 99 centesimi l'uno e anche il petto di tacchino e anche il petto di tacchino poi abbiamo preso una confezione di cran caramel pericoloso ne di casa questo pericoloso ne di casa poi abbiamo preso pizza extra sottile tonno e cipolle tonno e cipolle chi vuole venire a casa mia è invitato naturalmente solo belle donne solo belle donne poi abbiamo preso due rotoli di carta casa ultra assorbente super resistente questo quanto costano un euro e qualcosa no costava tipo 95 centesimi poi abbiamo comprato due confezioni di pavimenti dat cinque pavimenti al gusto limone e rose e fiori e infine dell'emd abbiamo preso due bottiglie di anticarcare per lavatrice fino a 60 lavaggi dovrebbe vari bisogna vedere come con il detersivo e con questo abbiamo finito l'emd adesso andiamo a prendere l'emd e con questo ragazzi abbiamo finito l'emd adesso iniziamo con l'eurospin abbiamo preso due casse di acqua naturale una è una confezione di latte una confezione di piadina romagnola con olio extravergine d'oliva due confezioni di croissant uno al cioccolato e uno alla crema ancora due confezioni di pastina e stelline perché qua la pastina non basta mai giusto due confezioni di formaggio grattugiato quello buono e una confezione di cubetti sempre formaggio quello buono poi abbiamo preso quattro arance e una confezione di cioccolato e c'è il batuffolo che scassa il cazzo e poi c'è picotà adesso c'è picotà piglialo la picotà piglialo la allora salviette per pulire gli animali ossia il gatto e il coniglio poi due confezioni di lavanda profumi per la casa anzi no sono tre confezioni una confezione di acqua di giù sempre profumi freschezza marina o no talco no talco due confezioni di frutti rossi no rosa scusate ho sbagliato rosa è una confezione di muschio bianco allora all'emd abbiamo speso 78 euro e 84 non so se si vede si vede secondo te si poi all'euro spin 23 euro e 10 abbiamo speso pochino mi ha fatto qualcosa e infine al tigotà 1 euro e 02 adesso salitiamo perché abbiamo finito quindi ragazzi questo è tutto spero che il video vi è piaciuto mettete un bel like iscrivetevi al nostro canale Magda 78 Sergi e le domandano Urwex ciao 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 ciao